Io provo sempre i rigori in settimana, venivamo da due rigori sbagliati, quindi questo qui aveva un po' di responsabilità, di pressione in più. Luca Relli mi conosceva già l'anno scorso perché l'ho battuto anche con lui, pensavo mi conoscesse, avessi detto qualcosa al portiere, ho pensato di cambiare angolo ma probabilmente dal risultato ho fatto una scelta sbagliata. Poi ho influito anche sulla mia prestazione perché ci tenevo a fare gol e a regalare tre punti alla squadra. Sì, non credo, anche perché la voglia di fare gol e di dare tre punti era tanta, quindi sono andato sul dischetto con quella voglia lì. Poi è al terzo il rigore sbagliato, ripeto, quindi aveva un effetto importante e mi sono fossilizzato, magari ancora ora, sicuramente è un mio difetto ancora su quella azione del rigore. Quindi lo tirerei altre mille volte ma purtroppo non si può tornare indietro. Grazie per la visione!